lettura al colmento del vangelo di domenica 24 aprile 2022 per bambini a cura di fano titolo mani del risorto il risorto ci porta i segni della pace il dolore dei chiodi è diventato dono di pace perché il perdono finisce sempre per portare frutto gesù risorto ci mostra l'evidenza della vita che vince le tenebre e la morte le sue mani sono mani di pace al posto dei chiodi pace e amore siamo capaci anche noi di trasformare le nostre mani i nostri cuori le nostre menti strumenti di pace se portiamo la pace portiamo la risurrezione del signore con la gioia che scaturisce dalla fede comunichiamo che abbiamo vissuto l'incontro con gesù risorto come dice papa francesco non abituiamoci alla guerra facciamo tutto il possibile per la pace buona domenica